Parliamo di Geraldine Sanders qui su Fan Week con me, io sono Elena. Geraldine Sanders si è spenta a 96 anni in California, lei è l'autrice del romanzo The Love Boats, scritto nel 1974 e dal quale è nata poi la serie Love Boats, appunto. Serie prodotta da Aaron Spelling che in Italia arrivò nel 1980, 10 stagioni, 250 episodi, la particolarità è che tutta la storia era ambientata su una nave da crociera. La Pacific Princess. Le storie che Geraldine ha scritto nel suo racconto e che sono state portate poi sul piccolo schermo sono tutte storie ispirate alla realtà perché lei, pensate, è stata la prima direttrice donna nel mondo di crociere. Quindi da quello che lei ha visto e dalla sua personale esperienza ha raccontato tutte queste storie. La particolarità della serie era che c'era un casfisto, ovvero l'equipaggio della nave della Pacific Princess e poi c'erano i passeggeri che in tutte le puntate cambiavano, i passeggeri erano sempre attori famosi. C'è stato Michael J. Fox, c'è stata Jamie Lee Curtis, c'è stato Tom Hanks, Ursula Anders. Se non l'avete mai vista cercate di recuperarla perché era veramente deliziosa, una cosa molto leggera, divertente, sempre degli amori presenti, dei misteri da risolvere, qualche omicidio. Insomma, Love Boat, amici, la sigla la cantava Little Tony, Profumo di mare. Mare, profumo di mare.